Ciao ragazzi Ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e mi scuso subito per questa voce molto rauca perché per chi mi segue sa che ho avuto un po' di problemi ultimamente con le mie corde vocali allora faccio questo video perché tengo a segnalare un campionato, un Porsche Cup che è organizzato dai ragazzi di PC Tech Club che hanno una sala lanna a Milano e vogliono organizzare un campionato per chi mi segue sa che ho già insieme a Luca commentato una delle gare di uno dei loro campionati e siccome è stato molto entusiasmante, soprattutto Salvatore che mi ha contattato è veramente molto simpatico mi sono permesso di fare questo video promo perché sta per partire dal 31 maggio un loro campionato quello che è interessante è che in paio c'è una GTX 1080, una bella scheda video la quota di iscrizione è di 25€ e vi pare che siano 6 date, adesso vi faccio scorrere magari a video quindi se siete interessati vi lascio tutto quello che vi serve per i contatti dei ragazzi di PC Tech Club e soprattutto di Salvatore per sapere le modalità di iscrizione, insomma come funziona non sono assolutamente sponsorizzato dai ragazzi, sono solo stato contattato per fargli il commento della live e quindi mi andava connessamente di poter dividere questa cosa con voi così mi seguite come commentatore a me e a Luca e in più perché no potete anche partecipare a questo campionato che sembra molto interessante se è come quello che abbiamo commentato ci saranno tantissime emozioni quindi per chi volesse tentare la sorte di vincersi una GTX 1080 della Nvidia questa è l'occasione giusta ma poi se uniamo l'utile al dilettevole perché no detto questo voglio approfittare anche di questo video per tranquillizzarvi sul fatto che si stiamo avanzando con questo mio carissimo amico che scoprirete prestissimo l'organizzazione del campionato prossimo che sarà di 3 o 5 gare stiamo decidendo e anche il tipo di simulatore, il regolamento eccetera e anche stiamo risolvendo un po' i problemi del server vediamo se qualcuno ci può dare una mano e quindi a breve dovremmo lanciare appunto le iscrizioni di questo campionato quindi rimanete sintonizzati, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina così siete notificati ogni volta pubblico un video e soprattutto nel specifico quando lancieremo il trailer per le iscrizioni appunto del campionato quindi rimanete sintonizzati come al solito ragazzi pollice in su se questo video vi è piaciuto con la promo di PC del Club che propone comunque un campionato a pagamento con una 1080 della Nvidia in palio e il fatto che vi stiamo per proporre un nuovissimo campionato e soprattutto in una forma nuova perché ci sarà probabilmente una doppia live ve lo anticipo, io che guido perché parteciperò questa volta e probabilmente, e questo lo devo organizzare, qualcuno che commenterà all'esterno quindi ragazzi rimanete sintonizzati perché a breve faremo uscire qualcosa per le iscrizioni come al solito noi ci vediamo prestissimo grazie mille per avermi seguito ancora una volta pollice in su mi raccomando, scusate per la voce d'acqua ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto, ciao! ciao 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 ciao